Che la sentenza di più grado a terrestre umano potesse essere rivista, ma invece giustizia è fatta. Quindi, anche se 30 anni possono sembrare molti o pochi, per me pochi, però ecco la sentenza conferma interamente quello che è stato deciso in primo grado, meglio di così. Diceva che gli sembrano pochi? Beh, si metta nei miei panni.